pochi istanti dopo la situazione si fa più rumorosa e c'è una specie di arrivo una specie di arrivo in piazza castello bravi 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 ultimo sprint andiamo fino alla fine che se ne ci chiede dai forza quanto ci avete messo a fare il percorso? io 19.05 19 minuti? i primi fin dove si andava? fino quasi a portanuovo cioè si partiva quasi in piazza statuto ma si girava prima poi si arrivava qua dietro il Duomo poi si passava in piazza castello giù i giardini reali corso San Maurizio poi si risaliva qua in piazza castello si prendeva giù via Lagrange fino quasi in fondo poi si girava via Roma piazza San Carlo ma è stata proprio una gara decisamente davanti andavano forte sono stato dietro fino a più o meno e tu che posto sei arrivato? intorno al quattordicesimo sono tredicesimo dai giochi ti sei guadagnato la colazione nooo brava bambina ti sottacchi anche il piccallo poi i bambini di piazza l'erio ti sto per svegliere l'erio come si riuscita? ma si riuscita? ma si riuscita? ma si riuscita? si, perché non si riuscita non si riuscita i baracchi perché anche io non lo posso riuscita ma si riuscita per te morale quanta gente è disposta a correre a Torino del primo mattino il sole qua non sembra neanche ancora sorto Grazie